Oggi il nostro focus è dedicato a Sintesi, la linea di pavimenti vinilici del progetto sistema assieme ai laminati Living e ai Wood Powder Lambertec ed Evertec. Come si compone l'SPC? Stark e Connex sono i prodotti principali della linea Sintesi e sono formati da un pannello SPC con tecnologia CoreStar, rivestito per fusione da un film vinilico decorativo che ne definisce l'estetica e protetto da uno strato di 0,55 mm rinforzato con tecnologia ShellStar composta di microceramiche. Il pannello SPC è un estruso semirigido ma flessibile, armato e caricato con minerali CaCO3 in assenza di ftalati è insonorizzato grazie a un materassino preaccoppiato. Queste caratteristiche lo rendono idoneo a qualsiasi spazio abitativo e commerciale. Come si compone la linea Sintesi? I pavimenti Sintesi Binil Flooring utilizzano solo materiali totalmente riciclabili grazie alla composizione omogenea. Antibatterici e antiscivolo sono salubri e sicuri con specifica certificazione antibatterica. Tutte le collezioni si distinguono per gli spessori ridotti e la grande flessibilità applicativa. Stark e Connex, parte della gamma Sintesi assieme a Fitlay, sono superfici totalmente idrorepellenti dal grande formato per la posa sia a pavimento sia a parete. Come si struttura la linea Sintesi? Più di 40 decori raccolti in 5 collezioni con tanti effetti legno e materici. Soluzioni a pavimento e a parete anche in ambiente bagno. Tanti formati, da meno di un metro fino al metro e 80 centimetri. Diversi tipi di posa per funzionalità diverse, agevolando sempre la praticità e la stabilità. Si va dall'incastro a secco autoposante con brevetto 5G fino alla posa con adesivo permanente per il rivestimento a parete su piastrelle con fughe senza rischi. Decorativi con effetto sincroporo per una maggiore naturalezza estetica. Resistenza all'acqua. Addirittura con gli SPC l'impermeabilità è totale. Sintesi è una linea certificata che permette la posa in ambienti ad alto traffico commerciale, in locali ad alto tasso di umidità o sottoposti a sbalzi di temperatura e su riscaldamento a pavimento con classe di resistenza 33. È antistatico e possiede la certificazione al fuoco BFL-S1. Riassumendo, ecco i principali vantaggi. È totalmente idrorepellente, è senza fughe, ha basso spessore ma grandi formati, ha presenza ridotta di VOC certificata A+. È resistente ai carichi commerciali, è adatto per ambienti umidi o bagnati. Grande sicurezza antiscivolo si posa direttamente su piastrelle con fughe. Guarda anche gli altri video dei prodotti schema e seguici online anche sui nostri canali social. Alla prossima, ciao!